Allora, mia sorella sta giocando a The Cleanator e deve indovinarmi. Prima domanda. Difficilissimo perché è un mescuglio fra una donna e un uomo. Basma! Io ho detto sì. Quanti anni hai tu? Basma, dai! Quanti anni hai? Parla italiano? Dai, Basma, lo so parlare l'italiano? I verbi. Basma! Mi sono so parlare l'italiano? Sì. Adesso ti conosce, vabbè, mettiamo di no. Non ti conosce. Mi sono detto famoso grazie alla televisione. Mi sei tanto cagata, eh. Dai, Basma! Basma vive con i suoi amici? Ma neanche... Come? Ma quali amici? Dai, Basma! Ti ho preso già a che fare con TikTok? Non lo so. No! Questo personaggio ha un nome... Sì. Ha i capelli ricci? Eh, li avevo. Sì. Non ci credo. È nata ad aprile? No! Basma, sono nata ad ottobre! Ottobrio! Il tuo caso viene dal stessa cagco? Viene dal Marocco, sì. Ti ho preso già una sorella? Ah, sei tu, sei tu, Basma! Il tuo caso è un posto perché c'è una cosa stupida. Fia, stregge stupide! Mi è proseguita, penso a qua. Registra il video in camera sua perché è solo quello perché hanno amici. No! Ah, una risata! Ma davvero? Caratteristica! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Sì, ma... No! No! Grazie a tutti